La vita da reali di William e Kate continua a interessare milioni di persone nel mondo E di recente William ha fatto una confessione intima incredibile William e Kate sono forse la coppia reale più amata in assoluto in ogni parte del mondo I due hanno dimostrato di essere davvero molto uniti soprattutto in seguito alla scoperta della malattia di Kate I due hanno affrontato le avversità insieme, sostenendosi a vicenda, trovando forza nell'amore incondizionato dei loro tre bellissimi figli Ora che Kate si sta rimettendo dopo le terapie contro il cancro, la coppia è tornata a mostrarsi in pubblico nelle occasioni ufficiali e naturalmente il popolo inglese ha reagito con grande positività al ritorno sulla scena dei principi di Galles Di recente, proprio durante una delle visite ufficiali di William, l'erede al trono ha rivelato un dettaglio intimo sulla vita notturna sua e di Kate E tutti sono rimasti a bocca aperta.William e Kate, l'abitudine notturna rivelata a sorpresa Nel corso della sua visita al Daci College Stock Linsland a Cullington, in Cornovaglia, William ha dichiarato che lui e Kate sono soliti dormire con accanto il loro cagnolone, Orl L'amico peloso, quindi, dorme sempre insieme a loro nel letto. Un'abitudine che svela il profondo amore dei principi di Galles per gli animali William ha fatto questa rivelazione durante una chiacchierata con Louise Harland, che ha presentato al reale anche il suo cane Jax Quest'ultimo ha accolto William nel migliore dei modi, saltandogli addosso con fare giocoso Un comportamento che il principe ha secondato divertito. Dopo l'incontro, Harland ha dichiarato a una radio, ha detto che il suo cagnolino dorme con loro sul letto di notte Harland ha poi aggiunto che William sembrava completamente innamorato del suo cagnolino Mi ha chiesto di che razza fosse, perché non aveva mai visto prima quella razza in particolare, è un cocajack, quindi una combinazione un po' unica Ha poi aggiunto che William ha fatto un commento su quanto fossero morbide le orecchie del suo cane Il cane di William e Kate è stato regalato loro dal fratello della principessa, James, da sempre un grande amante dei cani Non per niente, James è proprietario del marchio di cibo e lifestyle per cani e la eco Un amore per gli animali che William pare condividere in pieno Un amore per gli animali che ha già raggiunto younger